Sono Andrò Toffanello, ho deciso di arricchire la mia figura professionale attraverso un percorso di Master, Master Mumis, e questo Master si propone come punto di riferimento per quello che riguarda l'innovazione sociale strategica, ovvero tutto quello che riguarda l'attività di un'impresa e le ripercussioni che questa ha sulla società. All'interno di questo c'è la possibilità di declinare in ambito pratico attraverso un project work o un percorso di stage quanto appreso durante il percorso del Master, il cui punto di forza è certamente la qualità delle docenze grazie appunto alla partnership tra Università Ca' Foscari, Fondazione Studium Generale Marcianum e Bocconi SDA. Fondazione Studium Generale Marcianum e Bocconi SDA. Si, diumatici SDA. Insk Robinbase Marcianum è senza essere Bocconi SDA.,